Il numero 701 Il numero 701 Il numero 801 No, 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 no. 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 Allora passiamo alla categoria C7, l'avrete visto strecciare sulle vie che portano all'abitato di Sersale. Si tratta di un mezzo molto particolare, chi sta avanti guida, chi sta dietro frena, appunto si tratta di un biposto, unico mezzo in gara, la coppia Alessandro Raffaele e Umberto Rotella, categoria C7. premia l'associazione gocce di storia. Un applauso. in categoria C7, rotella Raffaele Alessandro, mezzo interamente costruito in legno, ruote in gomma piena, molto difficile da guidare, bravi ragazzi.